Ragazzacci, buona giornata! Allora, facciamo una sbarbatina, un'altra comparativa che mi avete chiesto. Sintesi italico, due rasoi di Goodfellas. C'è certa differenza di prezzo, però entrambi i rasoi diciamo che potrebbero essere tranquillamente due rasoi giornalieri, sì che ci sta la comparazione. Come peso, così a sentirli, diciamo che siamo un pochino più peso questo, sì. Bilanciamento dei pesi molto diverso, questo molto più peso in testa rispetto al sintesi che la maggior parte del peso invece l'ha nel manico, avendo la testa molto fine. Comunque vediamo in rasatura le sensazioni, mie naturalmente, non le prendete per scontate, per leggi. Sono solo le mie sensazioni. Vediamo stamani cosa mi dicano. Ci monterò questo è Bolzano Super Inox, in entrambi i rasoi. La stessa lametta. Aspetta, prima di montare così si scioglie un pochino il sapone. Oggi andiamo con TFS, Torino Forti Sensazioni. Credo che è uno degli ultimi saponi che ha fatto TFS, almeno di quelli che ho visto qua in America. Questo è naturalmente il sapone vegetale, immagino, non nemmeno guardato, ma loro fanno tutti i saponi vegetali. Tutto scritto in inglese, ma non c'è scritto anche in italiano. Applicare sull'apprendio va bene. Eccola qua. Qua c'è Arganoil, la pasta di burro di mango, burro di calide, olio di argano e olio di ricino. Sì, tutto vegetale. Allora, si è un pochino sciolto nel viaggio. Vedete se poi lo spostate. Profumazione molto molto delicata, molto leggera. Normalmente in TFS ci sento più profumazione. Comunque va bene, vediamo come va. Oggi non faccio la doppia camera, tanti ragazzi questi saponi TFS li conosce anche il gatto. Diamo un pochino di sapone vincioso, ma con un pochino di acqua che è super morbido, morbidissimo. Penso sia quasi impossibile da prelevare direttamente nel barattolo, perché mi immagino al metterci il ciuffo del pennello deve viene via mezzo barattolo. Questo secondo me va. Magari ho messo nel ciuffo e sciolto come se fosse un aproraso o se no va usato alla ciotola. Pennellino usiamo anche questo. Oggi tutto italiano. Anche l'after poi useremo after italiano. Allora, il sapone l'ho messo a scaldare. Cominciamo a montare i rasoi. Con legramette. Bolzano. Italico. Con il manico in ferro cromato. Penso sia ferro cromato questo. Poi c'è la versione gladio, che invece ha il manico più leggero in alluminio. Montiamo anche qua la bolzano. E ci siamo con il mio rasoio. Controlliamo all'inazione. Vedete che qui la metta sporge pochissimo fuori dal cap, mentre sull'italico vedete che esce più in fuori. Infatti questo è un rasoio che è bello canterino. Probabilmente dovuto che la metta un po' più prende a vibrare. Allora, pennellino. Ho tolto l'acqua. Vedete qua sul fondo c'è il sapone. Va bene ragazzi. Qui ormai non dovete vedere più nulla. Normalmente questi TFS montano con una schiuma molto voluminosa. Ok, vedete che in ciotola ci siamo. Vi bagno la faccia. E ci spennegliamo. Sta venendo fuori la profumazione, ho ramontato. La sento più che nel barattolo. Allora, la profumazione mi ricorda una colonia da uomo. Diciamo che non è una profumazione che ti fa dire wow, però è piacevole, veramente, veramente piacevole. Ricorda una colonia da uomo. Mi sembra una profumazione fresca. Probabilmente va bene anche per l'estate. Piacevole, veramente piacevole. Sapone, vedete che monta veramente bene e chiede anche abbastanza acqua. Guarda che bella schiuma che ha fatto. Non ho migliorato tanto anche questi saponi della TFS rispetto a quelli che faceva un 3-4 anni fa. che andavano già bene, però questi qua, veramente questi ultimi saponi che ho provato di loro. Guardate che schiuma, incredibile. Veramente eccezionale. Fantastica. Allora, cominciamo. Partiamo con l'italico. Lato destro, scaldatina. L'alamento si senta appena appena. Sui durade molto bene. Secondo me questo rassoio è un pochino più efficace rispetto a un R89. Magari qualcuno che non ha mai usato un rassoio di sicurezza, non so se potrebbe essere un pochino troppo per iniziare questo. Anche se comunque sicuramente un rassoio giornaliero, eh. Una volta fateci un po' di mano. Cazzoio che rade, ragazzi, fenomenale il taglio. Ottimo, veramente. A me mi ricorda... Prendetelo con le molle, eh. Non mi massacrate nei commenti. Mi ricorda un pochino il Rocca. Come sensazione di taglio, come suono della lamenta. Allora, andiamo con sintesi. Allora, qui sento un pochino di più la lamenta. Però è un'altra sensazione di taglio. È diversa rispetto all'italico. Qui la lamenta la sento più fissa. Sento il taglio, non so come spiegarvelo, più netto, ecco, rispetto all'italico. E, onestamente, mi piace di più come sensazione di taglio questa. Poi, sai, può dipendere anche dal tipo della barba. Come io ho la barba, diciamo, abbastanza dura. No, come quella di mio figlio. Mio figlio, mamma mia, ragazzi, ha una barba... Sembra... Grossa. Nonostante ci abbia... Voleva fare 19 anni. C'è la barba più grossa della mia. Allora, molto comodo questo. Con la testa fosse il fine. Sotto il naso, molto più comodo rispetto all'italico. Siamo lì. Se vi dico la verità, forse sono andato... Mi sento più liscio di qua, con l'italico, rispetto al sintesi. Però, come sensazione di taglio, mi è piaciuta verso del pelo più il sintesi. Allora, andiamo avanti. Sapete un pochino cosa mi ricorda questa profumazione? Ma poco, eh. Però, ecco, tipo... Come si chiama? Fate mai cercare, ce la qua sotto. Aspettate, che non mi ricordo il nome. Ecco. Ecco, mi ricorda, legge... Vagamente la 4711. Mi ricorda come profumazione. Vagamente, eh. Pellomeno sarebbe una buona accoppiata. Questo after, se uno non ha il suo, con la 4711. Allora, direi che ci siamo. Italico, traverso. Allora, benissimo, eh, questo rasoio. Quello che è bello peso, magari perché sta iniziando un pochino la lametta appena appena si sente l'esposizione, magari io non l'ho mai provato, anche se potrei montarci un manico in alluminio, il gladio potrebbe essere, perché inizia, forse se vuole comprarsi questa testa, il manico con il gladio è più, più appropriata. Come è un pochino più leggero, magari aiuta, da chi sta iniziando, a mantenere la mano leggera. Comunque, ragazzi, pochissimi passaggi, sono liscissimi. Anche qui in zona branchi, è un rasoio che rade come profondità incredibile, eccezionale, veramente. Ma poi per il costo che ha, veramente un best buy, secondo me. Italico, italico, no sintesi, attraverso. Niente, l'ade benissimo, anche questo, cioè la sensazione di taglio è fantastica. E' come piace a me. La metavella fissa, non vibra. Nonostante qui abbia molto peso sul manico rispetto alla testa, però con la testa così fine, è un rasoio veramente maneggevole a fare acrobazie. Allora, ragazzi, già ormai siamo allo stesso livello. Nel verso del pelo, avevo sentito un pochino più efficace, l'italico, ma già con il traverso siamo uguali. C'è solo qui in questa zona che ho bisogno di qualche ritocco in giù. Allora, prometto per buttare via quest'acqua, perché non hai il velo, chiediamo un'altra insaponatina, facciamo ritocchi e controvelo in alcune zone che mancano. Vai, voglio di più non me lo posso spalmare, dai casino ho fatto. Allora, controvelo, la bassa e il collo, ottime, queste la mettevo il sano, su di me vanno veramente, veramente bene. Poi con quel tirassoio si sposano benissimo. Allora, controvelo in su, guancia. Ecco qui, in controvelo pieno. Sentite come canta il rasoio? Diciamo che perde un po' di... come spiegarvi di piacere, di delicatezza. Per me il rasoio, perché estremamente così a sbalzo, avendo la barbatura, mi dà la sensazione che il rasoio mi va a fregare. sentite, va? Portata a zona branchie. Italico, piccolo puntino rosso, ma ho una piccina irritazione in questa parte bassa del collo. Non cadi qua. Sì, che il rasoio canta molto meno, perché qui la la metta non vive proprio niente. E in controvelo, la sensazione di taglio è 100 volte meglio per me, quella di questo rasoio rispetto all'italico. Anche Donavappi, mi piace molto di più sentire la la metta bella fissa. Verso del pello e traverso, non è tanta la differenza, però è nel contropello dove la la metta bella fissa nel mio caso è la maiusa santo. Fantastico. Lo liscio anche qui. Fantastico, la sbambata. Da, è il tocchettino qui. Ci siamo. Sciacquo. Ciao. Ciao. Casi, io direi che come risultato è esattamente esattamente più identico. Non sento nessuna differenza per questa profondità di taglio alla fine. vediamo che dice l'allume. per appena qualche puntino, veramente fantastico. Andiamo di qua. Stessa sensazione. Stessa identica sensazione. Stessa sensazione. sento bene anche la pelle è passata un sacco da lume se passa così la sento un po' sgrassata ma però la sento bella morbida appena appena qui in cui non ha già una bocca che sento un pochino secca ma per il resto veramente bella il sapone allora fatemi sciacquare tenendo la ciotola velocemente mettiamo un po' di after io avevo portato il Floyd per fare tutto italiano però sentendo la profumazione del sapone montata ragazzi mi cambio vado con la 47 milici vai meglio perché ci sento un pochino una leggera somiglianza buona la 47 milici mi piace allora bruciore praticamente zero ragazzi bella brumato stivo proprio un classico sento la pelle veramente bella morbida veramente ottimo tutto piaciuto tutto allora che possiamo dire di questi rasoi partiamo dal finale risultato ragazzi identico 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 due rasoi che li portano tranquillamente al bbs l'avete visto senza nemmeno fare acrovazie per arrivarci due rasoi che radano perfettamente però come sensazione di taglio li sento molto differenti non si assomigliano per niente questo vi dico mi ricorda un pochino il rocca lontanamente come sensazione di taglio come suono della lametta tende la lametta un pochino appena appena subbarbatura specialmente il contropelo si sente un pochino come vibra però probabilmente è dovuto a che la lametta tende a sovresalire vedete abbastanza dal cap mentre nel sintesi vedete che la lametta praticamente non si vede il cap la tappa completamente è una lametta che non vive assolutamente super rigida e mi piace di più come sensazione di taglio però come risultato finale io vi dico la verità non sento assolutamente assolutamente nessuna differenza e come quantità di passaggi avete visto che sono stati gli stessi sicché diciamo che in quell'aspetto si equivalgono però se devo scegliere uno dei due vado sull'italico però vi dico per la sensazione del taglio magari se avete una barba fine non tanto dura nemmeno me l'accorgete della differenza e anche perché con la testa così fine specialmente zona vaffi o zone un pochino più difficili ragazzi arriva veramente bene questo rasoio veramente un bel progetto uno dei miei rasoi preferiti sicuramente taglia benissimo il pennellino sintetico ragazzi fa il suo questo della Godfellas anche a buon prezzo e mi è piaciuto anche il sapone perfumazione molto leggera però piacevole una colonia direi come schestiva veramente tanta roba Torino forti sensazioni veramente un bel sapone fatto una bella schiuma lasciato la pella bella morbida nonostante passare anche la lume ottimo poi in Italia mi immagino lo trovate anche a buon prezzo che vale sicuramente la pena sicuramente consigliato questo è un classico so che alcuni di voi non piace però a me fa impazzire la 4711 Polonia grumata estiva fantastica l'unico difetto la profumazione dura una ventina di minuti e poi sparisce però c'è anche la Polonia a comprare che costa anche il giusto va bene allora anche per oggi è tutto le Bolzano ragazzi le conoscete sicuramente sono veramente ottime almeno su chi mi niente allora fidiamo con questo spero che il video vi piaccia sicuramente se non la so i che conoscete sicuramente scrivetemi nei commenti come li sentite voi e ci vediamo alla prossima ciao